Gentili telespettatori, buona giornata. Ogni tanto parliamo di questa giornalista selvaggia Lucarelli che non è famosa per il grande giornalismo che fa, ma è famosa per le polemiche che crea. Come funziona in Italia? Tu fai una polemica e non ti calcola nessuno. Se hai la fortuna che la tua polemica una volta finisce sui giornali e il grande pubblico ti conosce, poi provi a fare una seconda polemica e il giornale ti rimette di nuovo, ti fa l'articoletto, poi tu entri dentro una sorta di vortice dove per essere visibile devi continuare a fare polemiche, sperando che i giornali continuino a pubblicare le tue polemiche. Così Selvaggia Lucarelli è entrata dentro questo vortice. Lei ogni tot giorni tira fuori qualcosa sperando che ne parli qualcuno. Questa volta si scontra con Luca Bizzarri, dicendogli a Bizzarri che dovrebbe cercare il fascio che è in lui. Allora, io vi ho sempre detto che quella ricerca dei fasci forse la sinistra dovrebbe farla a casa propria, perché a me come area che si definisce in generale democratica, noi siamo democratici e voi no, insomma in tanti video durante questi quattro anni del canale, in tanti e tanti video vi ho dimostrato tante volte, ma tantissime volte, che quest'area e questo partito PD che si definisce partito democratico, spesso e volentieri hanno molto poco di democratico. Quindi non solo nel PD, ma in tutta l'area sinistra che comprende anche giornalisti o finti giornalisti, gente che fa solo polemica, spesso si vede molto poca democrazia, atteggiamenti che hanno proprio del minimo, minimo, minimo di democrazia. Spesso sono degli atteggiamenti intolleranti, intransigenti, di chiusura e quando voi non parlate con gli altri, quando voi decidete di chiudervi, ho ragione io e basta e tu sta zitto, quella non è democrazia. Una delle caratteristiche fondamentali della democrazia è il dialogo, dialogare. Quando tu non sei dialogante, sei poco democratico e fa paura una cosa del genere, perché una volta che governi con quell'atteggiamento di non dialogare con gli altri, e capite a che cosa porta. Una sinistra che governa e non dialoga con gli altri, che reputa gli altri poca cosa, che non vale niente. Insomma, a me fa molto, diciamo che ho più paura di una sinistra poco democratica di una destra che è assolutamente democratica. La destra oggi, lo vedete, è sempre pronta al dialogo, sempre aperta a dialogare, sempre aperta a dialogare. Ma torniamo a Selvaggia Lucarelli, che critica Bizzarri per un commento sarcastico fatto su Twitter, in cui si analizza la trilogia cinematografica di Amici Miei. Questo è il titolo dell'iniziativa, sessismo e stereotipi di genere nella trilogia di Amici Miei. L'attore ha commentato, non so se è vero, ma se lo fosse, il titolo sarebbe perché governerà 300 anni, in riferimento alla Premier Meloni. Secondo Bizzarri, insomma, alcune iniziative come quella da lui commentata contribuirebbero a rafforzare il consenso della destra e dell'attuale Presidente del Consiglio. Beh, da quello che vi ho detto non è che si capisce molto. Cosa c'entra Amici Miei con la Meloni? Vogliamo dire che Amici Miei era un gruppo di film che erano contro le minoranze? Allora, parliamoci chiaro. Se vogliamo andare a prendere tutti i film fatti prima del 2010 e andare a vedere se c'erano battute sessiste, se c'erano battute contro quei... Film comici, da sempre, il film comico si basa sulla presa in giro degli altri. Ecco, la comicità è la presa in giro degli altri. Oggi prendere in giro gli altri è mobbing, è tutte quelle parole straniere, no? Hai fatto body shaming, hai fatto bidi body boo, bidi bidi body boo, chip e chop, trick e track. Oggi come fai a fare un film comico? Oggi come fai un film comico senza prendere in giro nessuno. Quindi se vogliamo andare a rivedere con la dittatura del politicamente corretto tutti i film fatti, i film e la televisione fatta in passato non andiamo da nessuna parte. Quindi andare a prendere Amici Miei con il Conte Mascetti come se fosse Antani e dire quello prendeva in giro questo è ridicolo. Oggi viviamo in un'altra era, un'altra epoca, quella del triste politicamente corretto. Il generale ieri ha perso il suo incarico al comando dell'istituto geografico perché ha osato esprimere la sua opinione, discutibile, ma è la sua opinione. Sono opinioni, uno la pensa in un modo e uno la pensa nell'altro. Però oggi se tu la pensi diversamente dal pensiero unico chiedono di toglierti il lavoro. Ma torniamo alla Lucarelli che su Twitter ha scritto contro bizzarri. Quindi secondo lui non si possono analizzare dal punto di vista culturale e sociologico i cambiamenti della società anche nel cinema e nell'arte. Non possiamo discutere di stereotipi di un'opera pur riconoscendone il valore all'opera? E chi lo fa? Magari uno studioso all'interno di un'università va deriso o peggio va additato come colui che fa venire voglia di votare a destra. La giornalista poi dice bizzarri forse dovrebbe smettere di cercare chi aiuta i fasci nel mondo della cultura e cercare il fascio che è in lui. Chissà che non lo trovi finalmente. E così poi l'altro risponde il fatto è che quel film è proprio basato su sessismo e stereotipi di genere. Fa ridere proprio per quello. È quella la cifra. Non c'è molto da analizzare. Se invece oggi non avevi ancora dato del fascio a nessuno e ti avanzava un fascio va bene uguale. Magari la prossima volta scriveremo scrivimelo su whatsapp che sono un genovese riservato. A me quelli che urlano in cortile per farsi sentire dalla signora del terzo piano mi imbarazzano. Quindi bizzarri sta dicendo che lei strilla per fare notizia. Che è vero ovviamente. Questa signora è famosa per le polemiche che fa non per quello che scrive. Nessuno ha mai letto probabilmente una parola di quello che scrive o proprio pochi. La Lucarelli ha riplicato tranquillo Luca non è che io ti sto dando del fascio. Fai tutto da solo da tempo con quelli come te governeranno altri 300 anni. Naturalmente bizzarri da quello che ho capito dice che ovviamente il film amici miei bisogna contestualizzarlo nel suo tempo quando è stato fatto. Non puoi oggi analizzare con gli occhi del politicamente corretto un film fatto 30 anni fa. Non ha nessun senso. Grazie a tutti e arrivederci.